Non c'è un tema legato alla mobilità assolutamente, anzi mi dispiace perché sono state una serie di concomitanze da una parte di impegni, da una parte di qualcuno che si è svegliato col mal di pancia politico ma non è un tema legato alla mobilità, anzi secondo me questo tema è centrale, va recuperato e mai come in questo momento sarebbe stato utile un dibattito visto anche le cose gravi che stanno accadendo nella nostra città e sulle quali stiamo lavorando, mi riferisco alle vicende funicolari, quindi recupereremo anche questo ma non c'è un tema politico, mobilità, maggioranza e dintorni.